Una serie di incidenti, i più gravi dei quali ha richiesto l'intervento delle di soccorso, ha creato pesanti disagi al traffico lungo l'autostrada A4 Venezia-Trieste a partire dalle prime ore del mattino di oggi. Alle 7 circa, tra Cessalto e Sandona di Piave in direzione Venezia, il primo di una serie di piccoli tamponamenti che hanno interessato il tratto autostradale. Il coinvolgimento di tre mezzi pesanti ha creato da subito un grave rallentamento anche a causa del traffico particolarmente intenso a quell'ora. E' stato necessario quindi chiudere il tratto fra Porto Gruaro e Sandona con conseguente deviazione del traffico attraverso il bypass della A28 Porto Gruaro-Conegliano e sono stati chiuse le entrate in A4 da Sastino, Cessalto e Porto Gruaro in direzione Venezia. La coda di autoveicoli e camion ha raggiunto i 15 km nella corsia in direzione Venezia a partire dall'uscita di San Giorgio di Nogaro. L'incidente più importante si è invece verificato nella corsia opposta, quindi in direzione Trieste nel tratto Sandona e Cessalto, con la formazione di una coda di 5 km. Infatti intorno alle ore 7.45 due tir si sono tamponati e uno degli autisti è rimasto incastrato nell'abitacolo. Una volta liberato dalle lamiere, il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Donato di Piave. Poco prima delle 11 è stato possibile per Autovie Venete riaprire al traffico i tratti autostradali interessati, anche se si continuano a registrare code a tratti per lo più di mezzi pesanti tra Palmanova e Portogruaro in direzione Venezia.